La scrittrice, giornalista, super esperta di Reali d'Inghilterra, Luisa Ciumi, buongiorno! Buongiorno, buongiorno a voi, mi sentite? Sì, buongiorno, è bello vederla in un ambiente domestico, sembra un ambiente domestico. Sì, è un ambiente domestico. Io ho anche la camicia con la regina in modo da andare poi alla festa del compleanno con i palloncini. Stupenda! Perfetto, stupenda! Anche noi non ci abbiamo pensato, avremmo dovuto anche... E io la voglio quella camicia! E chi ne sa meno! Si può usare anche come pigiama eventualmente, ci voglio dormire. No, per dormire, dico. Tutto si può usare come il pigiama. Ciumi, dopo quelle bizze che aveva fatto con l'inchiostro, che l'aveva macchiato, in cui sembrava non preparatissimo al ruolo che lo aspettava, adesso, con questo aplomb nel lancio delle uova, ci sembra così, più adatto al ruolo. In queste settimane ha fatto progressi, Re Carlo? Eh, sì, ha fatto progressi, poverone. E lui, secondo me, è un... E scusate il termine, direi sfigato, però se vogliamo sfortunato. Nel senso che è, clamoroso, nel senso che è stritolato tra l'eredità materna, un gigante della storia, per la sua durata, per il rispetto di cui godeva, e della moglie defunta, un gigante dei media. E lui è lì, con i suoi 74 anni, essendo nato del 48, si sta imparando. Diciamo una cosa, sua madre era un mito, è una persona che, appunto, le tiravano le uova e lei non batteva ciglio, ma non le tiravano le uova. Lui ha imparato a non battere ciglio, ma ha un carattere diverso, è un uomo suscettibile, irascibile, e quindi ce lo dovremmo tenere un po' così, in questo suo modo di essere un po' sempre dubbioso, problematico, angosciato, nervoso, e meno male che ha una moglie che lo tira giù, piedi in terra, oggi probabilmente gli fa la torta con le candeline e anche la sua pappa preferita, insomma. Camilla, è però già così la partenza della nostra esperta poverone. È poverone, perché non è quell'irascibile accompagnato da una forza, cioè quegli uomini grandi, grossi, potenti, che sono anche i racconti. Lui è un po' il bambino viziato, è questo che ci dà l'idea, Cioni, è il bambino viziato che è diventato re, è per questo che non riusciamo ancora ad amarlo come amavamo la regina. Beh, la regina ha avuto 70 anni per farsi amare, e quando è diventata regina, tra il nome Elisabetta, buono per un re d'Inghilterra, propiziatorio, è un carattere diverso, diciamo è stata subito nei favori popolari, però bisogna ricordarsi sempre che è stata anche molto criticata, perché aveva una brutta voce, perché diceva cose banali, insomma ci ha messo tempo a ingranare. Carlo il tempo non ce l'ha. Sì, è in racconto, ma più che un bambino viziato è palesemente un uomo sbagliato al posto sbagliato. Cioè, non ha niente che non vada, bisogna massimo rispetto, però non ha quelle caratteristiche di freddezza e di mancanza, diciamo di capricci, ora ci vuole, che caratterizzava sia sua madre sia suo nonno. Però è vero anche che il mondo è cambiato. Certo, però al piano di sotto, Cuni, Re Carlo ha quelle meraviglie che sono William e Kate, che sembrano anche più adeguati al ruolo che gli aspetterà un giorno. Beh, dal punto di vista puramente costituzionale, Carlo è informatissimo e sicuramente più del figlio, perché il figlio ha studiato poco e ha studiato male, per sua stessa ammissione. Ha bisogno di un po' di tirocinio. No, no, per sua stessa ammissione, lui, sapendo che lo aspettava un periodo pesante dopo la morte della regina, si è dedicato per una decina d'anni alla sua famiglia e ai suoi interessi anche di beneficenza. Quindi è stato un po' defilato, veniva considerato uno dei reali che lavoravano meno. Adesso sta imparando anche velocemente. Loro sono molto, molto scenografici, però guardate che William ha un carattere molto più irascibile di suo padre. Pure? La lotta con Henry sarebbe stata molto più pagata se William non fosse uno che prende il cappello molto facilmente. E la moglie, anche in questo caso, le mogli hanno sempre un grosso ruolo, che ha invece un carattere più accomodante, gentile e simpatico. Ora, Carlo, politicamente, sicuramente errori non ne farà. O almeno, spero, mi auguro, perché ci manca pure questo. Vediamo, sì. Però sicuramente, anche lo stiamo vedendo, la parte di rappresentanza e di popolarità l'ha ceduta al figlio. Diciamo che un team in pubblico vanno Catherine e William e lui, invece, manda avanti questo lavoro della regina, che onestamente mandava avanti anche prima. Lo chiamavano... Sì, sì, abbiamo fatto dei bei cappottini oggi a tutta la famiglia reale, grazie alla nostra super esperta. Intanto io invidio quel servizio da tè che c'è alle sue spalle, Cioni. Io immagino sia il servizio da tè con cui lei prendeva il tè con la regina, perché lei l'ha incontrata anche la regina, vero? Sì, è proprio quello. Non lo puliamo mai perché ha le sue impronte digitali. No, vabbè, che meraviglia. Capito? Vabbè, insomma, ci fermiamo qua. Sono le 8.15. Io credo che il professor Ardemagni stia per far partire una petizione per far abdicare Carlo in favore di William e Kate. Ma io per anni ho pensato che non sarebbe mai arrivato a questo punto. Sarebbe passati direttamente da Elisabetta a William e invece, così, ce lo godiamo finché dura, dai. Ecco, va bene, con questo salutiamo non solo il re, ma anche la nostra super esperta. Grazie davvero per essere stata con noi, la mandiamo a fare colazione. Era Luisa.